Se ci pensi, se ci pensi, velocissimo, anche nel 2018, almeno due, io non ricordo la Meloni cosa fece, ma almeno due dei partiti del centro-destra andarono in campagna elettorale con l'ambizione di esprimere il premier, perché Berlusconi premier, Salvini premier, che era il logo della campagna elettorale, è legittimo che ogni partito dica ai suoi elettori votami, perché se sono il più votato farò io il premier, però per quanto Berlusconi e Salvini, più per motivi umani che politici, cioè sono due uomini che difficilmente accettano di sedersi c'è una tavola dove a capotavola c'è una donna, per di più una donna che fino a poco prima... Non è bello questo Alessandro, diciamo che se uno dice così non lo diciamo... Beh no, ma è un tema quello però, magari ci torniamo sulla misoginia del centro-destra Sai che io non sono politicamente corretto, però vedi, tu dici il centro-destra è misogeno, però per quanto misogeno, perché tutti sono misogeni, tutta la classe politica è misogena, per la prima volta una donna può diventare primo ministro, ed è una donna del centro-destra Questo è indigesto anche ai suoi alleati, insomma, quello intendevo Quindi il paradosso è che voi dite che la destra è misogena, ma sarà probabilmente la prima forza politica ad esprimere una donna primo-ministra Grazie a tutti!